Il turismo, comparto che ha subito i danni maggiori dai lockdown derivanti dalla pandemia, vuole ripartire e nel caso di Agritourist, associazione che raccoglie oltre 24.000 agriturismi in Italia, vuole farlo seguendo la propria vocazione, cioè naturalmente. Il progetto si chiama Riparti naturalmente, Riparti con noi e come dice il titolo significa che le nostre aziende mettono a disposizione, come vedete, questi spazi aperti, questi spazi in cui c'è un distanziamento naturale, in cui si può fare un'attività in sicurezza. Quindi noi diamo la possibilità in un ambiente che è decisamente aperto, in un ambiente libero, in un ambiente in mezzo alla natura. Questo è il nostro punto di forza e vogliamo ribadirlo in questo momento. Con un turismo sempre più di prossimità è nato il fenomeno Holiday Work, che offre ai lavoratori in smart working la possibilità di lavorare in strutture recettive come la fiscala di Spinetta Marengo, alleviando nel lavoratore l'isolamento di un appartamento in città. Riparti naturalmente, riparti con noi. L'agriturist sicuramente darà modo a tutti quanti di assaporare i gusti della nostra terra, mantenendo una leggera distanza che possa consentire a tutti di godersi veramente relax nelle nostre aziende. Sarà intrattenimento per bambini, per adulti, sarà didattica, questa didattica a distanza tornerà in presenza. La faremo nella piena disponibilità di spazi verdi e quindi adeguatamente areati, consentendo a tutti i ragazzi di ritrovare e di riscoprire nuovamente i nostri territori.